Ciao lacustri, benvenuti e bentornati. Oggi siamo andati avanti all'interno del mio mondo Minecraft Survival Stagione 2 e nello specifico abbiamo fatto una casa di pan di zenzero, o di marzapane, come preferite. Abbiamo anche costruito delle cosine qua e là e se non volete perdervelo, mi raccomando, godetevi il video fino alla fine. Nel frattempo ti invito a lasciare like e iscriverti se ancora non l'hai fatto e io ti auguro una buona visione. Let's go! Ah, sempre bello iniziare l'episodio con un creeper davanti. Io mi chiedo come sia possibile ogni volta che me lo perdo. Apro il mondo, magari lo chiudo e c'ho un creeper davanti. Come è possibile? Ogni volta, ragazzi, è incredibile questa cosa. Eccoci qui, ragazzuoli, nel mio bellissimo villaggio invernale, nel mio bellissimo villaggio natalizio. L'ultima volta abbiamo finito il Colosseo, finalmente. Una costruzione enorme, ragazzi. Enorme. Però sono molto contento e ne vado molto fiero. Non lo so, ragazzi, oggi ho guardato su internet delle foto delle battaglie navali e sono molto, 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 molto propenso a fare tutto quel meccanismo di redstone. Che fa uscire l'acqua, così si possono fare le battaglie navali. In modo che anche, se lo metterò poi all'interno del mio server, perché ho intenzione di mettere questo Colosseo nel mio server, si possono fare le battaglie navali. Con l'arco... Clean, ragazzi. Davvero, davvero bello. Sono super contento. Però adesso abbiamo un progetto molto carino da portare avanti, che è ovviamente il villaggio natalizio. E la scorsa volta vi avevo promesso di fare l'omino fatto di pan di zenzero, oppure di marzapane. Non so come lo chiamate voi. Omino di marzapane o omino di pan di zenzero, ragazzi. Vi ricordo che tutte le persone che in qualche modo supporteranno le live fino alla fine del periodo natalizio, quindi fino alla fine di dicembre per quello che mi riguarda, verranno messe qui dentro e verranno poi messe nel villaggio natalizio, nei regali di Natale, dentro delle shulker box colorate. Quindi è la vostra occasione per rimanere per sempre in una mia costruzione. Quindi, ragazzi, andiamo subito a fare il nostro bellissimo omino di marzapane. Ho un'idea per farlo stare dentro, spero che ci stia, ed è di farlo seduto sul bordo, con in mano un candito gigante. Così ne approfittiamo anche per fare tanti canditi sparsi per il villaggio e ci avviciniamo sempre di più alla fine, anche perché oggi è il 22 dicembre. In questi giorni bisogna tryhardare Minecraft, ragazzi, perché dobbiamo finire tutto entro Natale. Perché a Natale voglio che sia tutto pronto e rimangono solo da mettere le shulker box colorate, facciamo un mini evento natalizio e lo stesso poi faremo anche a Capodanno. Oh no, però ha realizzato una cosa. Raga, non abbiamo portato qui gli animali del bosco e del bioma delle nevi. Dobbiamo portare le volpi artiche e gli orsi polari. Oh no. Questa sarà una ardua impresa, perché dovrò fare dei portali del Nether. Io mi rifiuto di portarli a mano per quei 4000 blocchi che sono... No, quanti blocchi erano? Di più. Il lumino di marzapane o di pan di zenzero. Adesso vi do un riferimento. Lo mettiamo nel posto 1 o nel posto 2? Posto 2 sarebbe appoggiato con la parete, posto 1 appoggiato a questa. Questa è la parete un pochettino più libera. Avevo pensato di farlo disteso, ma l'idea non... No, facciamolo seduto molto più bello. Mi dispiace per tutti i ragazzi che sono su YouTube. Ragazzi, voi non potete votare perché non venite a vedere le mie live. 2, un quarto, 9, un quarto sulla piattaforma viola, eh, mi raccomando. Allora, partiamo dalle cose molto semplici. Riempiamo innanzitutto la nostra casetta di marzapane o di pan di zenzero, come preferite, con i canditi. Benissimissimo, errimo. Ok, ottimo. Allora, più o meno quanti blocchi ci sono da qua, là in fondo? 1, 2, 3, 4, 5, 13, 8, 19, 20, 30, 40. Spaccati. Ok, bene. Lo voglio mettere più o meno nel centro, in modo che se voglio fargli anche delle costruzioni di fianco o fargli la doppia mano che tiene i canditi, vediamo e le possiamo fare. Sì, sì, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Prendiamo i materiali più o meno che ci servono, brown concrete, red concrete e white concrete. E lo cuciniamo questo mino, ragazzone, perché ovviamente è un biscotto, quindi si cucina. L'uomo focaccina. Si cucina l'uomo focaccina. Chiaro. Allora, questa qui è la mia idea. Forse sono un po' troppo lunghe le gambe così, però vorrei fare delle gambette al nostro omino. E queste gambette devo capire bene come dividerle, perché forse due strisce di bianco sono troppe. Sì, mettiamone soltanto una. Non so se si può considerare glassa, però praticamente vorrei fare effetto glassa che divide quelle che sono magari le gambe dell'omino di marzapane, le braccia, eccetera, eccetera. Poi facciamo dei ghirigori, le facciamo i bottoncini rossi. Allora, vediamo se così può avere senso la gamba del nostro piccolo bro. Ehi, mi raccomando, ricordati di bere almeno due litri d'acqua al giorno per la tua salute. E lascia like al video già che ci sei. Let's go. Ok, mettiamo questo qui bianco che divide e poi farei anche qui una striscia bianca in modo da dargli una sorta di divisione con la glassa. Questa glassa qui in realtà è semplicemente per dividere la gamba, però se non mi piace facciamo le gambe unite. Sembra un regalo di Natale messo così, effettivamente. Regali di Natale potrei farli grandi così con dentro la shulker box, potrebbe essere un'idea golosa. Ok, visto così... Troppo quadrato. Ho capito come sistemarlo. Allora, innanzitutto, vabbè, allunghiamo questo di uno. Non ci mettiamo il coso bianco in mezzo. Perfettissimo. Questo lo spostiamo di un blocco e ci siamo. È un po' un trial and error Minecraft. Si prova finché non si riesce, no? Ok. Mettiamo qui la glassa. Questo dovrebbe dare un bel effetto. Secondo i miei studi, ovviamente, delicati in materia. Sono un grandissimo studiatore di Minecraft, ragazzi. Ora gli facciamo il corpicino al nostro mino di marzapane. Perfetto. Così. Ho paura che non ci stia, ragazzi. Il problema è dopo, quando dovrò mettere il vetro, perché su carta è bello anche vedere l'omino che spacca il vetro, ma poi costruire il vetro in modo che sia spaccato non è facile, come sembra. Capiamo un attimo quanto lo voglio fare alto. Damn. Allora, prendiamo un riferimento facendogli dei bottoni. Facciamoli così. O sono troppo grandi? No, decisamente troppo grandi. Facciamogli piccolissimi, allora. Ok. Perfetto. Vediamo come viene fuori. Ok. Qui li facciamo una specie di collarino. Togliendo magari l'angolo. Potrebbe venire qualcosa di bello. Ok. Mettiamo questi blocchi qua. E poi qui farei la testa. No, forse ci sta preciso, ragazzi. Potrebbe stare preciso. Non vorrei che sia un po' piccolo il corpo, ma lo scopriamo subito. Blocchi a disposizione? No, perché non me li metto nell'inventario? Mi si è rotta la rotella del mouse. Dico rotella del mouse, questo me lo chiedete sempre, ragazzi. Ve lo spiego di nuovo. Se voi avete nell'inventario della brown concrete e la volete piazzare ma non l'avete in mano, non avete voglia di aprire l'inventario perché siete pigri, basta che schiacciate la rotella del mouse. Proprio, pam, col dito. Ve lo metto nell'inventario. Però per qualche strano motivo non mi funzionava. Ho fixato subito. Vediamo. Ok. Vi dirò. Sto anche visualizzando poi quello che sarà perché ci saranno anche le due braccia. Ci sta, però forse conviene abbassare di uno il corpo. Sì, conviene abbassare di uno il corpo. Ok, ora dobbiamo fare una piccola bocca. Sono tre blocchi a disposizione. Capiamo se la testa la voglio fare grande così o la voglio fare più grande. Per gli occhietti potrei utilizzare concrete grigia, light grey e nera. Vediamo se ho concrete light grey. Concreate nera. Non so se riempirlo lo zuccone del bro. Ma sì, dai, riempiamolo. Tanto blocchi ne ho a volontà. A Natale sei sempre più buoni, più generosi. Gli occhietti come glieli facciamo? No, non so se posso usare più blocchi. No, 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 ragazzi. No, cos'è questa cosa? È cursed. Mi sto cursando. Mi sto cursando tutto. Mi sto cursando tutto, ragazzi. Ah, ho calcolato male le cose. Ho capito che la soluzione è fare la testa più grande. Semplicemente da questo lato qua. In modo da poterci far stare il sorriso Nike. E poterci far stare soprattutto gli occhietti Nike. Allora, ancora prima di mettere qualsiasi blocco, devo vedere se la testa alta così ha senso. Perché se non ha senso, non lo facciamo. Madonna, ma perché? Perché deve essere così cursed? Perché mi devi essere così dannatamente cursed? Wait, wait a second. Sembra un Creeper. Avete già capito cosa sto pensando, ragazzi. Se non l'avete captato, ragazzi, potrebbe essere un omino con una testa dannatamente grande. Ma potrebbe avere senso. Allora, nella mia testa questo diventa un Creeper. Un Creeper di marzapane. È geniale, ragazzi. È geniale. Però gli facciamo le mani, così è cursed. Me lo potrei anche accollare con la testa rotonda. Vi dirò la verità. Io odio fare le teste di queste cose perché vengono sempre palesemente sproporzionate. O che lo faccio un po' più grande, l'omino di marzapane è proprio alla base. Di base è più grande. Ok, ragazzi. No, 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 no. Vi dico io cosa si fa. In queste circostanze si fa soltanto una cosina. Si prova a fare il Creeper e se la roba non funziona, si fanno di nuovo le dimensioni. Ragazzi, odio doverlo ammettere, ma ho sbagliato di brutto le proporzioni di questo omino. E mi rendo anche conto che se lo faccio un po' più grande, che è come in realtà lo volevo fare all'inizio, non ci sta. Non ci sta qui dentro. Quindi lo dobbiamo fare che spacca il vetro. A quanto pare l'albero di nasale e l'omino di marzapane spaccheranno il vetro. E vi dirò, non è neanche una cattiva idea. Anche perché se lo faccio abbastanza grande, la testa proprio per intero è tutta fuori. Quindi qua fuori ci sarà la testa del bro di marzapane. E ci possiamo fare anche una casa dentro. Big brain! Ragazzi, non vi preoccupate. Adesso faccio una magia e magicamente tutto questo si è distrutto e lo ricostruiamo più velocemente di prima. Guardiamoci il tramonto, che è un po' che non ve lo faccio vedere. Mamma che bello. Mamma mia. Allora, se vogliamo fare un bello omino di marzapane, li dobbiamo fare le gambe spesse quattro. Non c'è nulla da fare, ragazzuoli. Deve farei anche uno più lungo. Perfetto. Così. E questo blocco lo spacchiamo. Questo lo spacchiamo. Questo lo spacchiamo. Questo lo spacchiamo. E facciamo un 4x4. Quindi 1, 2, 3. Chiudiamo così. Facciamo la stessa cosa da questa parte qua. Allora ragazzi, per non toppare farei il corpo spesso quattro e farei questo qui un pelo più lungo. A sto punto lavorerei in quattro e in quattro. Quattro di qua. Facciamo anche un po' di più, dai. Perché è così difficile costruire un omino di marzapane? Mamma mia! Se volete riempire delle cose, in qualche modo ma volete risparmiare blocchi, lasciateli dei buchi così singoli. Perché se lasciate questo può spawnare dentro uno zombie. Se fate così non può spawnare dentro nulla, neanche i pipistrelli. E lo farò in questo momento per il mio omino di marzapane. Partiamo con il corpicino del nostro omino di marzapane. Qui possiamo fare tranquillamente adesso dei bottoncini che sono un 3x3, eh? Vediamo se così è troppo alto l'omino. In caso trovo una soluzione. No! No, mi piace il fatto che sia bello grande così. Avrei dovuto già partire con l'intento di fare un omino di marzapane gigante. Anche perché, come vedete, poi ci arriva quasi preciso con la testa che sta fuori. Allora ragazzi, alla fine ho deciso semplicemente di lasciare due di spazio tra le gambe in modo da fare i bottoni che sono grandi 2. Perché se li faccio grandi 3 viene gigantesco ed è sproporzionato. È bello che sia gigantesco? Non è bello che sia sproporzionato. Questo è sicuro. Ma poco, poco ma sicuro. Ok ragazzi, siamo praticamente arrivati a quello che è il momento della verità. Ho fatto un po' piccola questa cosa. Anzi, vi dirò. Wait. Ecco perché mi sembrava strano. Riempiamo anche qua dietro. Già che ci siamo. Allora ragazzuoli. Se vogliamo fare una cosa omogenea qui dobbiamo mettere 4 blocchi e poi li facciamo andare su così. Quindi qui e qui mettiamo quelli bianchi. Dovrebbe essere relativamente omogeneo. Poi mi basta riempire i buchini qui. Non aggiungiamoci un acili troppo che non si sa mai. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocchi a disposizione. Con 8 blocchi a disposizione significa che posso fare questo. Però a sto giro è con 2 blocchi. Vediamo se la testa sporge abbastanza. Ok, sì. No! Ragazzi ve lo posso giurare. È stato più facile costruire il Colosseo che questo qui. Ho sbagliato un blocco. Uno. Meno male che è un easy fix. Non è troppo greve. Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento della verità. Per quanto riguarda quelli che sono gli occhi. Ti prego. Comunque confermo che va oltre la zona. Ma si potrebbe fare un ingresso secondario per questo posto? O un ingresso primario? Perché effettivamente poi come accedi qui se c'è il vetro? Magari mettiamo una porticina qui e mettiamo un piccolo dropper giù che ci fa cadere. Facciamo un dropper natalizio dentro all'omino di marzapane. Damn! Bello. Ok ragazzuoli. Ah, ora ci sta. Adesso gli mancano dei dettagli tipo questo mi sa che in 3D spacca. Le facciamo le braccia. Ho già una mezza idea di come farle. Le facciamo da quattro che partono qui. Ma un blocco più in alto e un blocco in fuori. Ho un vibe di quando stavo costruendo gli Enderman nel land. Quando stavo facendo la farm di esperienza sempre in questo mondo che abbiamo fatto gli Enderman giganti. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa, cosa c'è di sbagliato in questo braccio? Fatemelo vedere un attimo. Allora, innanzitutto vedo una cosa sbagliata in generale nell'omino che è questa. E lo voglio fare da tutti e quattro i lati. Poi, il braccio... Secondo me si può fare più piccolo della gamba. Si potrebbe fare un 3x3. Questo via. Non so perché l'ho fatto un blocco più alto. Non so cosa mi prendeva. Proviamolo a vedere già così. Magari fa la differenza. Provo a farlo 3x3 e vedere cosa succede. Innanzitutto lo abbasso di un altro blocco. No, di due no perché poi non si capisce. Uno solo. Ok. Funziona, ragazzi. Devo semplicemente ridurre un attimo il braccetto. Funziona, ragazzi. Perché di per sé l'omino funziona ma voglio far capire che il braccio... Potrei farlo un blocco indietro. Magari funziona meglio. Ok. Ok. Così mi piace. Posso fare anche di più. Facciamo l'effetto braccio. L'altro braccio non ci penso nemmeno. Lo faccio dritto, ragazzi. Proprio non sto neanche un secondo a pensarci. Devo vedere quanto è lungo l'altro però per non farlo giustamente asimmetrico. Perfetto. Devo stare attento a come faccio il braccio perché se lo faccio un po' troppo alto rischio il ban. E quest'idea qui della testa comunque è perfetta. Faccio qui la porticina. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dopo cinque mettiamo quello bianco. E poi andiamo avanti di tre. Che ragazzi. Questo braccio mi sta già piacendo subito. Non per motivi strani eh. Non per motivi strani non iniziate a preoccuparvi. Mi sta piacendo perché è genuinamente uscito bene. Perfetto. Dopo ci abbassiamo anche un po' qua per finire il nostro candito. Un altro glielo metterei giù. Mettiamo gli ultimi blocchi. Ultimi blocchi. E dovremmo aver fatto. Allora. Per toglierli qui. Togliamo questi. Togliamo questi qua. Andiamo verso il basso. Gli mettiamo un ultimo di questo. E dovrebbe essere pronto. No ragazzi. Guardate che bello. Dai è venuto bene. È clean. Non potete dirmi che è bruttino. È venuto molto bene. Una costruzione un po' turbolenta. Vi dirò la verità. Perché ci abbiamo messo tanti tentativi. Ma è venuta molto bene. Secondo me potrebbe essere una cosa carina. Poi è difficile magari da fare. Ma potrebbe essere carino. Tipo dei canditi. Per terra. Farsi qua e là. Come se effettivamente stesse nascondendo. O tenendo dei canditi. In modo anche da occupare la zona qui di fianco. Poi qua ci sarà Babbo Natale con le sue renne. E qui dobbiamo ancora decidere che cosa fare ragazzi. Cosa ci facciamo qua? Perché il resto dei posti più o meno so cosa farci. Ma qui non so cosa mettere. Questa zona. Più o meno ci siamo. Di qua possiamo fare un regalino. E lo farei rosso e bianco. Che è clean. Non troppo grande però. Farei una roba di questo tipo. Con sei. No facciamo cinque per cinque. Un due tre. Un due tre. Così posso fare la cosa con il fiocco. Uno due tre. Lo schiacciano oggi potrebbe effettivamente essere l'ultima costruzione che ci sta lì in mezzo. Però non lo so. Cioè alla fine è anche una delle più importanti. Quindi me la devo studiar bene. Ti ho un paio di torce qui dentro. Che bello il riflesso che fanno. Anche così. It's not bad. Stasera voglio riempire quest'ultima zona qua. Qui abbiamo deciso di fare un pupazzo di neve. Adesso lo tryhardiamo. Sapete cosa potrebbe essere anche interessante? Un pupazzo di neve mega ciotto. E anziché farlo a più strati. Ha tipo soltanto il pancione grande. E poi sopra c'è la testa. Con magari una sciarpina o qualcosa. Cosa ne pensate? Preferite un golem o comunque un qualcosa di neve a più strati. Oppure preferite un pupazzo più ciotto. Sarebbe figo tutto un po' sciolto. Damn. Cosa si potrebbe fare anziché farlo sciolto? Si potrebbe fare il pupazzo di neve che va verso di qua. Anziché farlo attaccato al bordo. Come se camminasse per il nostro villaggio. E quando cammina lascia la scia di ghiaccio. Crazy crazy. E dentro ci nascondiamo uno snowman golem senza la testa di zucca. Poi vi faccio vedere come si fa. Basta sono carico ragazzi. Abbiamo l'idea. Allora partiamo da qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Possiamo anche limare via un paio di blocchi e li facciamo di qui. Quel taglio ti starà di oh, prezzo bro. Grazie. Ok faremo sette per sette. Quattro, cinque, sei, sette. Vabbè la base la farei comunque quadrata. L'altezza invece... Vediamo quanto lo posso fare alto senza farlo uscire. Perché questo non lo farei uscire da qua sopra. Sette blocchi forse sono un po' tantini. Vediamo. Con questi siamo a tre. Tecnicamente posso alzarlo di altri tre senza problemi. Ok. Dentro per ora non mettiamo niente ma qui lo chiudiamo perché mi fa comodo chiuderlo. Perfetto. Se lui cammina verso di qua facciamo che la testolina di questo bellissimo omino va verso di qui. E la farei alta... Queste quanti sono? Cinque. La facciamo alta cinque. No ragazzi mi è venuta l'idea del secolo. Però non so se ci sta. Aspetta. Let me cook. Lasciatemi cucinare ragazzuoli. Allora adesso dobbiamo fare il nasino del nostro amichetto. Ma prima di fare il nasino farei la sciarpa. No facciamola verde la sciarpa. Cambiamo un po' il colore. Facciamo così. Così. Almeno li facciamo. E davanti la possiamo far scendere così. Perfetto. Nasino. Devo trovare un modo di fargli un naso originale. Non voglio farglielo arancione. Ok scherzo glielo facciamo arancione. Sta uscendo bene eh. Forse così viene ancora più bello. Gli facciamo un paio di questi. La bocca non gliela facciamo. Non mi è mai piaciuta la bocca nei pupazzi di neve. Sarò brutalmente onesto con voi ragazzi. Poi prendiamo questi. E visto che si muove. Dov'è il centro? Qua. Facciamolo di due. Rende ma è troppo grande. Ovviamente non posso farlo dalla parte opposta. Perché verrebbe una roba un po' particolare. Ma per cosa... Cosa sto sbagliando? Innanzitutto il primo blocco deve essere qua. E adesso dormiamo e vediamo come sviluppare queste braccina. Sembrano quasi le mie. Così. Tipo l'inizio del bastoncino. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Quindi al secondo blocco 3, 2, 2. Ho sbagliato qualcosa? No. Ok. Top. Poi dobbiamo fare i bottoncini. Questi sono un po' più complicati. Anzi no. Easy. Raga. No aspeh. Mettiamoli un altro bottone. E mi rendo conto che si potrebbe fare anche un qualcosa per gli occhi. Il bro aveva ragione. Ce l'ho del legno Dark Oak. Bene Marta. Prezzo. Molto. Non andrò a mentirti. Dai ce l'avrò del Dark Oak. Sicuro. Lo bello nero. Lo bello cattivo. Che si trasforma poi in botole. Perché ci sono delle botole che sembrano cioccolato. Però stanno davvero bene agli occhi. Sembrano dei bottoni. Invece li teniamo come se fossero dei sassolini. Ma se non li ho qua difficilmente li avrò in giro. L'ultimo posto dove posso controllare è magari vicino a pinnacoli pendenti. Niente facciamo che temporaneamente al nostro pupazzino di neve gli mettiamo degli occhietti marroni. Perfetto. E poi dopo ci mettiamo la trapdoor. Però dai raga è carino. L'abbiamo fatto anche straveloce. E poi dobbiamo fare una delle cose più importanti. Ovvero lasciargli la scia dietro. Allora per la scia sparerei un po' a random. Anche perché alla fine un pupazzo di neve dovrebbe lasciar giù la scia di neve no? Però già gliela stiamo facendo di ghiaccio quindi la farei molto randomica. E non troppo gigante. Anche perché dovrebbe essere qui. E ho anche due tipi di ghiaccio per farlo. Ho il pack d'ice e ho il blue ice. Anche se è quasi finito. Blue ice da craftare? Mamma mia! Dovrei trovare degli spikes di blue ice. Dovrebbero esistere. Bello ragazzi. Bello bello bello. Mi piace. E ora voglio fare un piccolo magheggio con la neve. Se riesco. Tipo qui. Appunto come se stesse passando lui. E lascia anche un po' la striscia di neve. Molto a pattern random. Anche un po' di fianco così. Bello. Anche qua davanti si potrebbe fare. Proprio che segnala che si sta muovendo. Super hit ragazzi. Però ci ha lasciato comunque un sacco di spazio qui davanti. Quindi tecnicamente potremmo anche costruirci altro. Damn. Guardate come si sta iniziando a colorare questo villaggino eh. Piano piano. Slowly but surely. Stiamo facendo di tutto. Sì sembra davvero che cammini. Ma anche visto da qua sopra. C'è proprio ti dà quel vibe che si sta muovendo. Tutto ciotto. Carino. Ed è in questi momenti che normalmente avrei detto. Ok per il villaggio natalizio abbiamo spaccato. Andiamo a costruire il Colosseo. Ma lo abbiamo finito. Ho un'idea ragazzi. Devo andare a cercare l'ispirazione. Fatemi prendere giusto due razzetti. Sperando di averne ancora. Devo ancora fare la farm di cane da zucchero tra l'altro. Andiamo al Colosseo. Andiamo a cercare l'ispirazione al Colosseo. Il pinguino con la sciarpa non sarebbe male. Perché se io visualizzo il pinguino con la sciarpa potremmo farlo quasi che attira il pupazzo di neve. Quindi il pupazzo di neve sta andando dal pinguino. Però non voglio che ci siano troppi personaggini lì dentro. Perché distolgono l'attenzione da quello che magari è il centro del villaggio. Che è l'albero di Natale che dobbiamo ancora illuminare. Serve un qualcosa di più tranquillo. Che non dia troppo nell'occhio. Che non sia un pugno nell'occhio. Come dissi anche nello scorso episodio. Un elfo. Potremmo creare una storiella con un elfo. E questo ci avevo pensato. Perché praticamente ragazzi. Noi abbiamo fatto la fabbrica dei giocattoli. O comunque dobbiamo fare la fabbrica dei giocattoli. Cosa che possiamo continuare ora. Infatti magari mi conviene continuare a costruire la fabbrica dei giocattoli mentre parliamo. Potremmo fare un elfo che è un elfo scappato dalla fabbrica di giocattoli. E come abbiamo detto anche in un vecchio episodio è un po' un luogo di schiavizzazione. E c'è lui che è scappato. Quasi per dire no non andate alla fabbrica di giocattoli. Un elfo che sale sulla slitta. Io voglio fare la slitta delle renne qua. Con Babbo Natale. Domani la vedrete sicuramente. Si potrebbe mettere un elfo che. La fabbrica di giocattoli lavora per farmare la neve. Poi in realtà la farmiamo noi. Perché ora come ora non si può automatizzare questa farm. Però damn. Mi piace. Bene ragazzi. Direi che si può continuare tranquillamente domani. Da Custri io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito se volete vedere altri miei due video io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli.